Il comitato ristretto dei sindaci convocato dal presidente Gian Guido D'Alberto si è riunito per confrontarsi con la direzione strategica della ASL sullo studio di fattibilità del nuovo ospedale sul tema delle liste di attesa. Durante l'incontro i tecnici della ASL hanno illustrato a grandi linee il contenuto dello studio che prevede la realizzazione di un moderno ospedale da 501 posti letto messo in rete con gli altri tre ospedali SPOC di Giulianova, Atre e Santomero, uno studio corposo che prende in considerazione diversi parametri, gli stessi usati per simili iter per la costruzione di molti altri ospedali in tutta Italia. È stata l'occasione per affrontare il tema della pianificazione e quindi anche dello studio di fattibilità che ha predisposto la ASL, che l'ASL ha commissionato e che è stato predisposto, che prevede una comparazione tra le aree per quanto definite e individuate per la realizzazione del nuovo ospedale con le loro differenze. Noi abbiamo ovviamente ribadito il principio che sempre stiamo richiamando, no alla mera delocalizzazione del Mazzini, ragioniamo su una programmazione seria che non lasci, qualora si dovesse realizzare l'ospedale altrove, il Mazzini come una cattedrale nel deserto, anzi venga potenziato come casa della salute, come luogo della sanità del territorio, riabilitazione che diventerà anche più forte, più attrattiva rispetto a quella che è la situazione attuale di quell'area. Ovviamente poi dovrà essere misurata ogni scelta relativa all'intervento sul nuovo ospedale che deve guardare ai prossimi 50 anni alla salute dei nostri figli, perché il vero tema lo dobbiamo ripeterlo in un momento in cui il dibattito è solo quello che si sta svolgendo fortunatamente all'interno del territorio della provincia di Teramo, per la sanità teramana, perché ci sono risorse da impiegare, guarda soprattutto al tema relativo al futuro dei nostri figli, il nostro obiettivo è non essere costretti per curarci, questo anche soprattutto rivolto alle future generazioni, ad andare fuori, ad andare altrove, ecco perché avere, per quanto riguarda Teramo Città Capoluogo, la presenza di tre presidi sanitari, un nuovo ospedale, una struttura del territorio, una casa della salute e la casa della fragilità all'interno di una provincia che ha una risposta su tutto il territorio provinciale, sul piano sanitario, è sicuramente un obiettivo che dobbiamo porci, misurandolo però concretamente sulla sua sostenibilità.